Un arresto per furto ai danni di diversi uffici postali a Eboli. Dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo ritenuto il responsabile di diversi furti che si sono verificati nei mesi scorsi a Eboli ed in particolare ai danni di un ufficio postale privato e di una farmacia. Ad eseguire l'ordinanza di custodia cautelare personale di arresti domiciliari i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Eboli. L'indagato è stato ritenuto il responsabile di due furti ai danni di un ufficio postale privato di Eboli che si sono registrati in due diverse occasioni. Un primo furto è stato perpetrato nell'ottobre del 2022 per poi ripetere il colpo lo scorso mese di gennaio quando, secondo la ricostruzione, l'uomo si sarebbe introdotto all'interno dell'ufficio armato di un taglierino con il quale ha minacciato l'addetto per farsi consegnare l'intero incasso pari a circa 600 euro. Una rapina che segue un altro furto verificatosi ad ottobre del 2022. Lo stesso indagato sarebbe inoltre stato ritenuto responsabile di una tentata rapina ai danni di una farmacia ubicata, anche in questo caso nel comune di Eboli, e verificata se nei primi giorni di dicembre 2022. In quest'ultimo caso l'uomo si sarebbe introdotto all'interno della rivendita mentre il farmacista era impegnato nella sistemazione dei farmaci. In quel caso l'addetto è immediatamente lanciato l'allarme appena resosi conto della presenza di una persona sospetta con il rapinatore che si è dato subito alla fuga. A seguito attente indagini condotte anche attraverso la visione di immagini di videosorveglianza è stato quindi possibile risalire al malvivente che è stato quindi raggiunto dal provvedimento cautelare emesso dalla procura della Repubblica di Salerno ed eseguito nella giornata dai carabinieri di Eboli.